Non posso proprio avvicinarti. Abbiamo subito parecchi danni prima, si sono aperte delle palle, specialmente ai serbatoi. Perdiamo caso razza ogni secondo che passa. Sarò costretto a lasciarti assurdo, mi dispiace. Va bene, tenetevi pronti con l'equipaggiamento. Lanceremo il vostro uomo dal retro di questo VTOL. Che cosa faremo? Sei pronto? Lancio a breve. Scenderò quanto più posso, ma questa è una carretta, quindi muovete. Sveglio di Zuzana! Dieci secondi, andiamo! Buona fortuna, Marine! Sta' attento, figlio! Appretto la tua gioia nel vedermi, Alcatraz, ma dovrai procedere con cautela. Lockhart, ha seminato per l'isola le sue forze scelte. Io ti guiderò come meglio posso, ma la mia visuale da qui è, diciamo, fortemente limitata. Grazie a me, Sveglia! Avanziti a me, la voce da metterci, lo imprisco! Non puoi da metterci, no! Non puoi da metterci, no! Non puoi da metterci, 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 non puoi da metterci. Saffron 5 La adovisione abilitata Saffron 5 Confermo contatto omitivo con Provence Chiedo rinforzi Aria politica Ricevuto Saffron 5 Rinforzi d'arrivo alle vostre coordinate Beh è durato davvero poco Non trovi? Forse dovresti essere un po' più cauto Saffron 5 Saffron 5 Corazza, Gassi. Occultamento attivo. Saffron 7 è qui, Oversaidum. In vostro stato. Mi hanno colpito. No, chiediamo supporto. Confermato, Saffron 7. Inviiamo risorti. Saffron 10. Supporto immediato a Saffron 7. Ricevuto. Riferisci cosa neanche. Saffron 7 è qui, Oversaidum. Occultamento attivo. Granata! Occultamento attivo. Non c'è nulla. L'opera sinistra. L'anodizione è abitata. L'analogia è abitata. Non c'è nulla. Occultamento attivo. Un pochetto, un pochetto! Dunque, rallenta e ascolta bene Alcatraz. Lockhart ha piazzato una trappola elettromagnetica alla barriera di controllo. Se dovesse attivarsi, briggerebbe tutti i sistemi della nanotuta e probabilmente anche le tue sinapsi. Non puoi aggirarla, ma puoi ingannarla. Non lontano dalla tua posizione, vicino all'arrivo orientale, c'è una stazione di alimentazione del Prisma. Raggiunge la stazione elettrica secondaria. Questa è la stazione del Prisma. Occultamento attivo. L'arco di si non è riparato. Spero di sì. Vado a controllare. L'arco di si non è riparato. 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 Occultamento attivo. Bene, Lockhart non lo sa, ma l'alimentazione della sua trappola elettromagnetica passa per quella stazione e loro la stanno sovraccaricando, se riuscirai ad attivare il blocco d'emergenza il suo comando verrà aggirato e una volta riattivati i sistemi non saranno possibili altri blackout, lui non lo saprà perché non apparirà sullo schermo, ma quando cercherà di attivare la scarica, occultamento attivo, farà cilicca, pedia l'energia per disabilitare la trappola elettromagnetica, registriamo picchi di potenza in tutta l'isola, Lockhart è incazzato Occultamento attivo. Facciamolo e basta. Eccellente, ora vattene via da lì il più rapidamente possibile. Se la vanno rilevato l'interruzione, mi verranno a indagare. Occultamento attivo. Ok 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 Nuova terra! Avanzare! Cosa? Metto! Abbiamo nessuna amunità! Occultamente attivo! Adesso devi pressarli! Non dar loro il tempo di pensare a ciò che hai fatto! Stanno inviando rinforzi alla stazione secondaria! Procedi con cautela Alcatraz! Siamo giunti fin qui! Non deludermi proprio ora! Nel posto buscatamente attivo! Pari! Possibile contatto! Occultamente attivo! Un'anovisione abilitata! 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 di Lockhart, fai presto. Muoversi! Ritenetelo ancora intanto. Attrappolo a elettromagnetica, pare non abbia sortito effettivo. Preparatevi ad attarcare. Archi! Devo fare tutto da solo! Siete soldati, Shep? Siete come fagliati? Qualcuno ti ripone le palle o gira quel pezzo di merda? Non ti avevo avvertito, non credo, ma è una prima solo lungo della carta. Ah, ma è una prima, ma è una prima, ma è una prima. Lei sarà il prossimo, io lo giuro. Finisco con questo coagliore con me e poi penso a lei. Passa con gli arresti dovicinari, le faccio saltare quel terreno romano. Ci hanno già provato uomini migliori di te. Uomini migliori e cose che trascendono. L'uomo è la stessa, cose che mi immagino. Calca! Libero! Occultamento attivo! Occultamento attivo! Corazza massima! Fanculo mattino! ! Facultamento attivo! Ottimo lavoro Adesso devi entrare Sto prendendo l'ingresso del primo Raggiungilo prima che vuoi Sto prendendo l'ingresso del primo 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 Dobbiamo prepararlo il più in fretta possibile Non abbiamo molto tempo Attenzione Sveglia marini Non ho il momento di morire Riporta in culo nella mischia